Le escalation di episodi di violenza che si sono consumati ultimamente nel centro storico dell'Aquila a Fa Parlare, tutti hanno detto la propria, molti puntano il dito sulle comunità che accolgono minori. Nei giorni scorsi c'è stata la presa di posizione pure di alcune comunità cittadine, che hanno voluto far riflettere in maniera più ampia sul fenomeno. Spesso infatti per loro si adotta solo la repressione, senza pensare a strumenti che potrebbero prevenire invece certi comportamenti. Sport, scuola, comunità comune, ognuno dovrebbe fare la sua parte. Quello che dispiace è che a noi sembra di essere un pochino il capro espiatorio di una situazione che è generale e che riguarda solo in parte e forse anche in minima parte i minori stranieri non accompagnati ospiti nelle strutture. Dopodiché io sento parlare di esercito, di repressione, di controllo e diciamo che posso anche essere parzialmente d'accordo, perché sicuramente c'è bisogno di un controllo del territorio, oltretutto le nostre strutture collaborano da sempre con le forze dell'ordine, ma l'esercito di cui veramente ci sarebbe bisogno è un esercito di educatori, un esercito di educatori di strada che escono dalle nostre comunità e vanno nei luoghi più caldi della città dove si incontrano i ragazzi e intervengono con proposte ludiche, educative, con attività. Ma solo così si riesce tutti insieme a trovare una soluzione ad un problema che ripeto non è aquilano, è generale, basta vedere la cronaca, ci sono episodi ovunque, in Abruzzo, Pensafezzano, Chieti, ma dappertutto, dove appunto noi riscontriamo ragazzi arrabbiati che arrivano sul territorio, a volte oppositivi e i nostri strumenti sono semplicemente educativi, noi non abbiamo strutture psichiatriche o detentive, noi non possiamo recludere nessuno né sedare nessuno, possiamo parlare, possiamo mettere in campo la professionalità dei nostri assistenti sociali, dei nostri psicologi, dei nostri educatori professionali, che hanno però strumenti esclusivamente educativi e noi come strutture educative da soli non andiamo da nessuna parte, insieme a chi magari in questo momento ci punta un pochino il dito contro, lavorando insieme potremmo ottenere dei risultati importanti in questa città.